Impareremo a raccontare le storie Impareremo a studiare personaggi, impareremo a fare le voci diverse E ognuno troverà il suo modo di diventare qualcosa di diverso da sé E sarà il tuo modo di raccontare una storia L'importante è che ci divertiremo tantissimo Ok? Ok? On your orders Ok? On your orders Sì